Banca e sempre più assicurazione, questo per i lavoratori che cosa comporta? Ieri Lando ha detto che il nostro leader Giuseppe Castagna è stato molto chiaro sul nostro futuro, che è un futuro stand alone. Per poter garantire questo futuro stand alone è evidente che in uno scenario di tassi, dove oggi sicuramente stiamo guadagnando tanto, ma con tassi che scendono verranno meno i ricavi, è evidente che abbiamo dovuto mettere in campo ora per allora tutta una serie di tasselli che ci permettano di garantire l'adeguata redditività anche per il futuro. Banca assurance va vista in questi termini, banca assurance va vista come un nuovo tassello che mettiamo all'interno di un gruppo che vuole crescere, di un gruppo che è nato nel 1 gennaio del 2017 da due banche, la quinta e la nona banca italiana, entrambe con più di qualche problema, più di qualche problema che con le organizzazioni sindacali in tutti questi anni abbiamo sempre gestito trovando soluzioni e quindi banca assurance va vista in questa ottica. In questa ottica dove noi in questo momento stiamo assumendo all'interno della compagnia di assicurazione che abbiamo creato, abbiamo appena fatto l'acquisto delle due società che avevamo esternalizzato non più tardi di tre anni fa, le abbiamo ricomprate all'interno, tra l'altro facendo anche una buonissima plusvalenza, abbiamo creato il veicolo esterno che porterà i danni nel mondo esterno, ma non solo assumeremo all'interno della compagnia assicurativa ma dovremo assumere anche all'interno del capogruppo perché è evidente che tutta una serie di flussi informativi, penso ai rischi, penso all'audit, penso alla compliance, penso al legale e quante altre, devono essere anche strutturati nella struttura centrale. Quindi penso che siano ulteriori opportunità di un gruppo che a quel punto per le sue persone può offrire anche percorsi di crescita che vanno dal mondo dell'investment banking al mondo del private banking, dalla banca assurance al mondo del large corporate e quindi con un'esperienza a 360 gradi rispetto a tutto quello che è le possibili professioni che possono svolgersi nel mondo bancario. Grazie. Grazie.